A partire dall'inizio di febbraio arriva a Capannuri l'Università 50 e più, che propone corsi per cittadini over 50. Una nuova proposta formativa voluta dall'amministrazione comunale per promuovere lo sviluppo culturale e sociale dei meno giovani e non solo, dato che da quest'anno i corsi sono aperti a tutti coloro che hanno compiuto 18 anni. Il programma delle attività è stato presentato da Rosa Conte, coordinatrice dell'Università, Antonio Fanucchi, presidente dell'Associazione della provincia di Lucca e vicepresidente nazionale, l'assessore comunale alla scuola Francesco Cecchetti e la consigliera comunale Silvana Pisani. I corsi proposti dall'Università Capannuri saranno tre, laboratorio teatrale, storia dell'arte e scrittura autobiografica. Sede delle attività didattiche sarà l'ex Aula Magna della scuola Carlo Piaggia. I corsi inizieranno a febbraio e per le iscrizioni è possibile rivolgersi alla sede Confcommercio e 50 e più di Lunata in via della Madonnina. Oltre a ringraziare il comune di Capannuri, il presidente Fanucchi ha parlato anche dei prossimi passi dell'associazione. Portare prima a Capannuri un po' per rappresentare il corso della Piana ma poi arrivare negli altri step nella Versilia e anche in Garfagnana perché la nostra Università veramente è una realtà importante, una realtà riconosciuta un po' dagli istituzioni e dal pubblico che le frequenta. Abbiamo solo elogi, questo ci fa tanto piacere e il merito è anche della nostra coordinatrice dell'Università, Rosa Conte, professoressa Rosa Conte molto attiva e molto brava in questo. Io sono convinto che con il comune di Capannuri ci sarà un futuro molto importante e ringrazio l'amministrazione per quello che ci ha messo a disposizione.